lunedì 3 aprile ben ritrovati su vercelli web tv folla entusiasmo e tanta commozione sabato scorso saluzzo dove alle 16 neovescovo monsignor cristiano bodo è stato accolto nell'uomo dal vescovo emerito monsignor guerrini e dal sindaco mauro calderoni ampia la delegazione vercellese di autorità sacerdoti ed amici che hanno accompagnato monsignor bodo a questo importante evento si terrà venerdì 7 aprile alle 14 30 nella sala consigliare del primo piano di palazzo civico la prima riunione del consiglio comunale dei ragazzi di vercelli l'iniziativa coinvolge le scuole secondarie cittadine di primo grado con lo scopo di sensibilizzare i giovani alla cittadinanza attiva il progetto prevede sia momenti teorici sia di vera e propria pratica politico amministrativa è stato presentato venerdì scorso in città la seconda edizione del listino immobiliare della federazione italiana agenti immobiliari all'interno di un convegno dove si è parlato soprattutto di risparmio energetico buongiorno ci troviamo oggi al parlamentino dell'ovessesia per la presentazione della seconda edizione del listino immobiliare redatto da fiai vercelli in questa occasione oltre alla presentazione dove faremo vedere quelli che sono i valori rilevati degli immobili abbiamo legato questo un convegno che vuol parlare a 360 gradi della casa si parlare dell'emergenza abitativa per le fasce più deboli della popolazione si parlerà di nuove tecniche di costruzione e di possibilità di risparmio energetico al convegno parteciperanno la dottoressa paola montano che vice sindaco di vercelli oltre che assessore alle politiche sociali della casa dopo la dottoressa montano avremo anche degli altri interventi ad esempio della sutiro laus che è una società specializzata in costruzione di case in legno avremo la bed di impianti che ci parlerà del valore della ristrutturazione della casa basata anche su quello che ci può dare come risparmio e chiuderemo con la uno gas che ci farà vedere delle possibilità di risparmio nel settore energetico il memorial del folk 2017 visto l'esibizione alle acace di vercelli venerdì scorso dei celti beppe alceo del fisarmonicista piero ambrosini della cantante vanessia dosio con il chitarrista mike barbano ed ancora i ball breakers graceland e come passa il tempo e alessandro geddo i premi consegnati erano intitolati a gianni dosio a cesare losa pino de maria don luigi lunghi a umberto ravello e aper luigi serra oltre a questi riconoscimenti sono stati assegnati i premi amici del cerco ascom e alla vercellesità si è tenuta ieri a borgo vercelli presso la ditta marazzato l'esposizione di mezzi storici in occasione del settantesimo anniversario del lancia esatau certo c'è un raduno di camion inizialmente corredato dalle macchine quest'anno l'anno lancia e quindi abbiamo pensato di invitare gli amici di varallo del club lancia story che sono venuti a farci visita con alcuni pezzi purtroppo limitati perché la giornata non ci ha assistito il clima al meno però qualificanti questo sicuro loro loro volta era un anno che attendevano di vedere i me gli automezzi autocarri più che automezzi autocarri restaurati con questa occasione abbiamo messo in esposizione cinque lancia e esatta o che compito quest'anno come progetto 70 anni quindi tra questi e gli altri insomma un certo numero di mezzi è stato esposto alla merce di tutti godiamone di quello che può essere il restauro l'intervista completa con tutte le immagini del pomeriggio di ieri la trovate sul nostro sito www.bercelliweb.tv anche quest'anno a gattinara si ripropone il corso di informatica pratica per la terza età questo corso di informatica ha lo scopo di aiutare gli anziani a familiarizzare con le nuove tecnologie partendo dalla bc del computer dall'accensione alla navigazione in internet dall'uso della posta elettronica all'uso delle varie periferiche collegabili al pc fotocamera stampante via discorrendo per ogni informazione è possibile rivolgersi anche all'ufficio informa giovani in piazza italia telefono 0163 833 420 ed ora la pubblicità e poi lo sport archiviata la bella vittoria di sabato con il bari alla pro vercelli hanno appena il tempo di rifiatare che domani alle 20 e 30 si affronterà la difficile trasferta di carpi la squadra che è l'ultima spiaggia per cercare di sognare è una squadra che deve far punti per andare nei nei play off ma noi dobbiamo cercare di fare punti per salvarsi quindi le motivazioni sono devono essere superiori le nostre oggi ho visto una squadra che aveva ancora più voglia di vincere di quella che aveva sia pure importante il bari a carpi deve essere così e allo stesso modo sì settimana via soprattutto mese molto molto attivo anche perché ci sono sette partite penso nel mese di aprile sei sei o sette partite quindi dobbiamo stare concentrati senza guardare le altre squadre ma convinti che se facciamo noi qualche punto senza guardare gli altri ci possiamo salvare però non bisogna far calare l'attenzione bisogna rimanere sempre concentrati perché prima arriviamo raggiungiamo la quota salvezza meglio per tutti. Per me è una squadra che sta crescendo proprio al di là nulla toglie sul vostro impegno che ci mettete l'attenzione che è data alla partita ma una squadra che da fuori c'è l'impressione che sta crescendo sta migliorando. No no è vero è vero questo è vero però appunto come ho detto prima arriviamo alla salvezza meglio per tutti per cui dobbiamo rimanere concentrati e giocarci queste nuove partite fino fino alla fine. Passiamo al campionato di eccellenza Piemonte girone A il Borgo Vercelli con una bella impresa supera la capolista Juve Domo sul terreno amico portandosi così a quattro giornate dal termine del torneo a solo quattro punti dai novaresi e dalla promozione. 1 a 0 risultato finale ma tanto basta per sognare. 1 a 0 anche il risultato con cui l'LG Trino torna dalla trasferta di Borgo Manero e conquista la quinta posizione che ad oggi dà diritto a disputare playoff. Vince Orizzonti United dall'Alpignano 2 a 1 e viene sconfitta in trasferta l'Alicese 3 a 0 sul terreno del Borgaro. Le due vercellesi sono in una tranquilla metà classifica. Per questa edizione del nostro telegiornale tutto noi ci vediamo come sempre domani sera alle 19. Grazie a tutti.